Io sono Alessia Di Chiròlamo, sono componente della Commissione Paglia e Portunità della Regione Marte al secondo mandato. In quest'ultimo mandato sono anche responsabile e ordinatrice del gruppo di lavoro Inclusione Sociale Regionale. Sono anche componente della consulta regionale dell'AMI-UP come invitata permanente per la Commissione, ma sperente delle direttive in diverse associazioni di categorie. E non da ultimo sono anche io una donna con una diversità, per cui non potevo non mettermi in prima linea oltre a sostenere e anche a supportare questo evento, questa rassegna. Essendo componente della Commissione Paglia e Portunità, ovviamente parlo da un presupposto che le Paglia e Portunità hanno come principio base l'uaglianza, l'uaglianza dei rischi e anche l'uaglianza dei bisogni. Quindi questo vuol dire che ciascuno di noi deve avere le proprie bisogni, ma devono avere questi bisogni della stessa importanza. Quindi, uaglianza, uguali rischi e uguali bisogni. E secondo me è da cui è bisogno a partire per pianificare poi una società in base a questi bisogni. Oggi siamo qui appunto per dare inizio, o meglio, è una rassegna che già è stata fatta per molte volte, quindi io sono qui per la prima volta, ma con me, diciamo, andiamo inizio a una nuova parte, nel senso che vorrei appunto portare avanti questo discorso dell'inclusione sociale, che secondo me è importantissimo, e bisogna puntare su questa tematica, proprio perché attraverso l'inclusione sociale dobbiamo cercare di cambiare un attimo le regole del gioco nel territorio. E cambiare le regole del gioco vuol dire un po' reale e nei momenti come questi, che possono essere solamente nel momento in crescita di arreddimento per ciascuno di noi.